ascoltate un attimo venite su voi due vieni qua fate linea così usiamo i fumogeni vai la non sei a tiro la quando vi dico via coprite tutti i muretti fermati dovete coprirmi state in riga dovete sparare più che potete voi due coprite l'angolo di sinistra tu vai dietro lui coprirà col muro la capito vai buono copri 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 dai coprite dai coprite di giù schiacciatevi giù cercate di arrivare sotto al muretto dai a sbalzi forza coprite taglia vai a destra dai vuoti la mossa fermati che va indietro che sei scarico grazie a tutti